Se vi trovate ancora nel primo o nel secondo episodio della storia facendo ancora tutte le missioni secondarie, fermatevi subito e concentratevi su quelle principali, soprattutto se non volete perdere decine di ore di tempo inutilmente. Ciao a tutti, io sono Saschaibasta e in questo video vi spiegherò perché arrivare al terzo episodio è così importante, ovviamente senza spoglierare la storia. Mettete mi piace per aiutare gli altri a trovarlo e andiamo! Se siete arrivati alla fine del secondo episodio sbloccherete la seconda regione del mondo e uscirà un avviso che consiglia di completare tutte le consegne secondarie vicine. A questo punto alcuni di voi per paura di non poter più tornare lasceranno tutto e andranno a fare le consegne secondarie. Non fatelo! Anzi, se non siete ancora arrivati a questo punto vi consiglio di farlo il primo possibile. Perché? Semplicemente perché nelle prime missioni del terzo episodio sbloccherete alcuni oggetti che vi permetteranno di fare le consegne molto più velocemente. Per esempio, una consegna che prima richiedeva 30 minuti, ora potrà essere completata in 10. E non vi preoccupate, perché potrete sempre andare avanti e indietro tra le regioni liberamente. Non vi dirò quali sono gli oggetti che sbloccherete all'inizio del terzo episodio per non rovinarvi la sorpresa, ma se siete particolarmente curiosi troverete un mio commento con l'elenco. Fatemi sapere se questo video vi è stato utile e vi ha fatto risparmiare un sacco di tempo nei commenti o magari con un mi piace. Altri video di trucchi e consigli arriveranno presto e se non volete perderli iscrivetevi attivando la campanellina. Come sempre, grazie mille per la vostra compagnia. Qui sa c'è basta e ciao!